Un caso di sepsi fulminante da pneumococco, questa è la causa della morte di un 49enne del Casentino. Marco Magni, 49 anni, di Prato Vecchio, è morto al pronto soccorso di Bibbiena intorno alle 7.30 di domenica mattina. Febbre alta, vomito, diarrea, questi i sintomi. L'uomo è stato prima visitato dalla guardia medica. Durante la notte, poi tra sabato e domenica, la moglie, resosi conto della gravità della situazione, ha allertato il 118. I sanitari giunti sul posto hanno deciso il trasferimento del 49enne in codice rosso all'ospedale di Bibbiena. Il paziente comunque era assolutamente cosciente, è salito in ambulanza da solo, è arrivato al pronto soccorso comunque in condizioni accettabili. Intorno alle 6.50 del mattino il quadro clinico si è aggravato, l'uomo ha avuto gravi difficoltà respiratorie e poi un arresto cardiaco. Nonostante mezz'ora di manovre avanzate e di rianimazione, purtroppo è morto. Diciamo che i sintomi sono quelli di un'infezione, che potrebbe essere anche un'infezione virale normalmente, quindi sono sintomi che in genere sono aspecifici e soprattutto considerando infezioni a ricorso così rapido sono anche confondenti, perché effettivamente la febbre, il mal di gola, il mal di pancia oppure talvolta la diarrea e il vomito sono sintomi che si possono correlare a tantissime altre infezioni. L'azienda sanitaria non ha disposto profilassi per chi è stato a contatto con il 49enne. Generalmente la profilassi viene fatta per le infezioni da meningococco e quindi se noi abbiamo un paziente che presenta o una meningite o una sepsi meningococcica, allora in quel caso, quindi germe diverso, viene assolutamente presa in considerazione la possibilità di profilassare tutti i contatti che sono stati vicini a quel paziente. Grazie. Grazie.